Quindi tu ancora ti prendo l'ombrellino, giusto della season? Quello dorato, quello nuovo? Ok, ok, ok. Esatto. E allora si va a prendere l'ombrellino, ragazzi! E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Ragazzi, come avete visto sicuramente dal titolo e dalla miniatura, oggi abbiamo un game molto, molto interessante. Un mio fan che mi segue da tantissimo tempo mi aveva chiesto di aiutarlo a fare la sua prima vittoria reale della nuova season di Fortnite per, appunto, andare a vincere l'ombrellino. Ovviamente non potevo che accontentarlo e abbiamo vinto la prima partita al primo try. Così ha avuto, appunto, il suo ombrellino della season. Prima di iniziare con il video, ragazzi, vi lascio subito un bel mi piace per supportarmi, come sempre. Mi invito a usare il codice creatore CRUATOMIST nell'item shop di Fortnite per supportarmi e vi ricordo, come sempre, di seguirmi su tutti quanti i social che trovate qui sotto in descrizione. Quindi niente, ragazzi, guardatevi questo fantastico video e fatemi sapere cosa ne pensate. Andiamo al più safe possibili. Direi qua. Ah, ok. Che è il mio safe spot. È troppo strano. No, abbiamo fatto in stessa. No, tranquilla. Possibile team, possibile sims diving. Quindi preparati. Perfetto, qui non c'è niente. C'è solo leggo. Quindi tu ancora ti prendo l'ombrellino, giusto della season. Quello dorato, quello nuovo. Ok, ok, ok. Esatto. E allora si va a prendere l'ombrellino, ragazzi. Andiamo a prendere l'ombrellino. Allora, questi qua che stiamo qua davanti moriranno tutti quanti. The first one to the last one. Però la prima safe 4 minuti non è un po' tanto. No. Aspetta. Quello sono sti bambini. Watch out. Lo scelto, sono anche il primo livello. Sono dentro. Però non tu vuoi chiara one shot? Trovo lui. Bene, 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 bene. È il primo a terra. Primo a terra, ragazzi. Andiamo col prossimo. Porto le pente. Non ho mai male. 63. C'è Taduno, è morto. Ok, dove è il suo compagno? Guardi, tu lì, ma... Lo sapi sul quanto? 50 HP. Ok, cilla. Ma perché deve finirti? Qual è la motivazione varida, logica esemplare di questo giocatore ridicolo? Piccolo. Vabbè, hai due minuti per rassarmi. Andiamo. Ok. Farti subito i mini. E corri come un camaleonte. Appena nato. Appena nato e voglioso. Aspetta, fammi prendere qualche arma. Ah no, prima me ne farti subito i mini, intanto, e andiamo a prendere il loot. Aspetta, fammi... Magari li vedo. Eh sì, anche perché stanno tornando indietro. Sì, anche ne hai dato. Sì, sì, ma tranquilla, vieni come va. Primo. 27 giocatori in quel safe, però l'ho mai visti. Cioè, stiamo giocando insieme e li vedo, ma cosa vuol dire? Vai, tutto l'uotè lì. Allora, c'è un bel po' di roba. Qui lì c'hai il pump. Eh. Non si sa. Salire! Ok. Allora, pump. AR. Qualcos'altro? Allora, c'è un team lì, ma noi andiamo in safe. Oh, mamma mia. Tieni, ti lascio tutto. Siamo tantissimi, cioè. E anche l'RPG, fantastico. Eh, ma quell'RPG sarà mio, semplicemente. Vieni, 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 lasciamo. Se c'è un'R, vieni, lascerà. Sì, 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 ho l'R. 23? 66? 23 è morto? Ce n'è ancora qualcuno fuori safe. Attento. Sì, sì, lassù, lassù. 27, 27, rotto. 26, rotto, rotto, rotissimo. 59. Bravissimo. C'è anche il compagno, adesso. Faccio cadere? Io vado fuori safe. Caduto, caduto. Tu pensi che lasceri com'è? Da 5? Buona, 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 buona. Bambola! Col fisico perfetto! T'ha fatto, mamma! Dead! Mazzi? Moronna, mi cosa c'è qua? Oh, mio Dio! Allora, prendi lo SCAR? Dove è lo SCAR? Qua, eh, perfetto. We can go now. Ragazzi, l'obiettivo è far prendere l'ombrellino della SIS una sim al primo tentativo. Primo tra i ragazzi. Diciamo, sì, ma tu hai giocato delle partite per questa SIS, giusto? Sì, perché sei livello 8? Sì, sì, sì. E ti piace in pubblica? Questo per esempio è andato alla mia prima partita, mi laserano da... Oh, a sud. Visto? Visto, visto, visto. Ah, infatti questi qua stanno avendo una cosa veramente ridicola. Non avere paura di spiegare materiali. Ah, le stanno pushando. Dicevo, vuoi sapere come è andata la mia prima partita? Ho paura di saperla, ma sì. Lando al nuovo spot, mi ammazzo altissimo con la minigam. Col boss, quello con la card. Ah, sì, sì. Cosa c'è? C'è sta leggendaria. Oh, guardate gli scudi, dai. Scudoni e pompo dorato. Allora, aspetta. Ma anche delle bicoi. Aspetta, te lo lascio. Dammi un big. No, non c'è, è solo uno. Serio? Non ho visto due? No, è uno solo. Ok, va bene, va bene. Io prendo le bicoi. T5, porto. Ok, è caduto l'altro. Oh, cazzo, sono venendo i colpi della R. Vabbè. No, 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 questa cosa non va bene. Questa cosa non va bene. No, 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 no. Andiamo, c'è. Ah, lancia razza, c'è, va. Ok. Preparate a faietare, faieteremo sicuro. Qua c'è solo il pad. Ah, no, ci holdano, ci holdano, ci holdano. Mi faccio un flopper, andiamo. Vigile a metallo, se puoi. Ok, non stare sotto. Ok, ci sto provando di salire, dietro il mezzo. È accaduto? Non so. È sceso ancora di più. È morto il mio. Ok, quello che mi ha ammazzato è stato quando deve salire. Sì, esatto, quello. Forse lo hito. Ok, dove è andato? Ok, è ancora lì. Allora. È bucciato. Vieni qua. Oh, è spassato l'affara. Aspetta, magari mi sposto. Ok. Passano le munizioni di arrea che non ho 16. Allora, spostati subito in safe, quindi com'è. Vabbè, se non c'è in safe. Era per essere più... Safe. Allora, hai i shieldini? No. Infatti questi? Allora, ho un flopper, ma ho paura a dartelo, fincera. Eh, vai. Quanti materiali hai? Eh, 700. Mi dai un tipo 100? Vabbè, certo. Vabbè. Proviamo. Non ti faccio provare a... Vabbè, l'interno di folla. Sì, sono tanti da un cazzo, matto. Bene. Credo siano nel bush a est, non voglio dire una cavolata, ma del duco siano là. Hai razzi? Eh, sì, no. Aspetta, ho splitto. Ah, non te l'ho dati tutti. Ah, aspetta, te l'ho dato un po'. Penso che è l'RPG. Ok. Niente pad, vero? No, niente. Ah, che ho la sonno la seranda. Vieni con me, muoviamoci ora. Ah, ok, vedi le bush, ho ragione io. Aspetta, c'è uno là in basso. HX, body, bravissimo. Te lo sto stilando tutti. Questa c'è un altro. 23 blue. È rotto. C'è un altro che ti può voler tirare. 24. Naturalmente. No, no, non ha preso la carda. Ha preso il loot. Vabbè, subito. Bravo. Un altro. No, sono andato. Tipo 24. Continua, 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 continua. Continua la serata. HX è morto. Ok, mi siamo nei materiali di lui. È un must. Preparati a buildare. Perché... Prevedo... Eh, ci stavo guardando. Infatti! Ok, tu buildati, buildati. Aspetta, che non si è tutto salgo. Allora. Dov'è? Sono andati a mi sovi, Nike. Ok? Ok. Copriti il più possibile. Io non ho materiali, simma. 35 blu. Il mio problema sono i mazzi. Aspetta. Il mio. È il mio è la vita. Aspetta, posso sospettare qualcosa. Andami. Come? Non è niente. Dobbiamo bussarli. Non abbiamo scelta. Ah, no. Non è la safe. Stop. Aspetta, vado a curare. Eh, ho pochissima vita. Allora, vedo brutta. Vedo veramente brutta. Sto quanti l'hs. Sto l'hs. Sto l'hs. Sto l'hs. Sto l'hs. Sto l'hs. Sto l'hs. Quattro. 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 Bianco. Ci metto cinque bianco. Questo guanno battone è bianco. Cosa si sta facendo? Sto facendo un sinistro. Emo, son morta. Guarda, sono finito di matto. Quattro bianco. Sto insicurando. Ok, ti sta pushando. È sopra. Scela, 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 scela. Ti dico dov'è, se lo vedo. Guarda, sempre lì in alto. Ti resto, ti resto, ti resto. Non ti, non ti vede? Sta guardando dall'altra parte. Mi ti sta vedendo. Mi sta vedendo, forse? Vieni qua. No, hai senso? Non ti mazza, hai ancora? Vieni qua. Vieni, vieni. No. Quattro di circa te. C'è, 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 c'è. No, non posso, non posso. Fai, tu, fai, tu, tranquillo. Ombrellino al primo try, ragazzi. Per il signor Sim. Guarda, dovevo morire. Non so come non ho fatto la morire. Perché ho giocato benissimo a tutto quanto. Ma a un certo punto ho messo da due shot di tattico. Non so nemmeno io come. Sembravo il cosplay di Bart. Ma a un certo punto ho.